Oh ragazzi, sul serio, è importante, è giusto divertirsi, anzi bisogna, guai, la sera la musica, il cinema, anche insomma una bella birretta, uno spritz, un mojito. L'importante è che poi chi guida è quello che non ha bevuto, perché magari è a stereo, perché quella sera a turno ha detto tocca a me guidare, quindi altrimenti è pericoloso per voi tantissimo, ma anche per gli altri, per quelli che non c'entrano nulla. E' importante, è bella questa campagna, non fate le teste di alcol. Ciao!